e ben tornati in questo nuovissimo video sul mio canale con questo è stato zek remo non designer perchè l'ho levato giustamente eppure io lo stavo dicendo comunque ragazzi oggi siamo qui con la prima reaction e si spera fino alla finale del brasile prima reaction sul mio canale purtroppo siamo già al quarantesimo sto coglione si è messo a mangiare 3 ore tacco incredibile di william e niente ragazzi non vi dico il numero di mi piace però lasciate un mi piace se volete un'altra reaction con Enzo e con altri nostri amici e magari se ci riusciamo a organizzare anche con gli iscritti perchè no? io ho la maglietta numero 8 di Kakà Enzo ha una maglietta del Brasile senza numero penso e niente forza Brasile ragazzi mi racquando lasciate un commento con il vostro pronostico già stanno 1 a 0 non lo sappiamo però magari 2 a 1 3 a 1 Enzo hai qualcosa da dire? niente ha fatto un bel gol Paolinho porca troia che gol ha fatto a pallonetto e ora speriamo noi speriamo che si indicabile il Jesus quindi qui sotto nei commenti hashtag Gabriel Jesus niente ragazzi comunque mi volevo scusare nel frattempo dell'assenza che ho avuto però un po' è stato l'ultimo periodo di scuola che non potevo non essere promosso e appunto sono stato promosso con la media del 7 non lo so nemmeno io come porca troia e poi ho iniziato a lavorare però adesso trovo il tempo e riesco a fare un po' tutto vorrei portare un video ogni due giorni insieme al reaction e al calcio mercato comunque mi raccomando seguitemi su instagram per chi ancora non l'avesse fatto zekrevepsilonti li pubblico storie ogni giorno dove si divertono tutti tra parentesi spero moriate Enzo tue sensazioni di oggi cioè io sapevo che il Brasile vincesse perché me lo sentivo proprio era impossibile che il Brasile non vincesse però io vorrei segnare se Gabriel Jesus secondo te oggi segna? ho avuto parecchie occasioni dove si sono morto per un secondo potrebbe segnare sono morto per un secondo perché pensavo si fosse infortunato ma in realtà così non è stato mazza mazza sembra oggi è Istanbul puoi mettere canale 506 che non si riconoscono i giocatori? no 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 me lo prendo ma il passaggio di merda ma sto Neymar del cazzo oh casemiro casemiro fallo ho giocato 50 euro su vittoria a Svizzera vittoria a Brasile spero perdono tutti tu lo vedi che ho una corona in testa sembra la pottuta vincita questa d'Inghilterra due minuti di recupero assegnati dall'albitro incredibile cosa potrà mai accadere in questi due minuti di recupero manco fosse fine partita di Germania ma perché Gabriel Jesus sembra che piange oh ma vedi che ho una corona in testa sembra una pottuta principessa di Vigilterra cioè ma questi qua tengono Marcello e Filipe Luiz in panchina Ederson in panchina noi teniamo da nascosta in panchina noi teniamo Darbian in panchina teniamo Spinazzola vai Polino 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 il giocatore fine primo tempo del Brasile si sono mangiati queste tre golle nel finale di partita però diciamo che in grosso modo ha giocato solo il Brasile tutta la partita comunque forza Brasile sempre ragazzi mi raccomando ci vediamo nel secondo tempo bello ragazzi appena iniziato il secondo tempo forza Brasile dai Gabriel Jesus speriamo che ti sblocchi dai mamma mia sei morto sei vivo no no non vomitare nel mio video anzi vomita vomita dai faccio la visualizzazione ma si è cagati sotto Gabriel Jesus questa è la macchina guarda la cagarella oh oh dov'era Gabriel Jesus dov'è perché non c'era Milik cioè non ti fa Brasile ti fa Jesus corri Gabriel Jesus vai Gabriel Jesus no passa Gabriel Jesus trozzo ho detto sbagli lo so che sbagli non lo sapevo che sbagliava oh passa vai Gabriel no perché sei 1 e 75 te l'ho detto che il segna la Serbia la deve chiudere sta cazzo di partita del Brasile te l'ho detto che la Serbia segna eh con la roba in mancino vai vai che facciamo sto 2 a 0 cioè capilla e poi no Poligno mettono a Fernandino questi mamma de rosse parola tra svaldi fiori parola ora passaggio per Neymar 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 doppio passo di merda gol e c'è il gol è fuori eppure ti amo ti amo però poteva essere Gabriel Jesus 2 a 0 2 a 0 palla al centro Serbia a casa 2 a 0 dai Jesus aspettiamo solamente il tuo gol cazzo questo è per tutti quelli che dicono il Brasile è scarso la Spagna è più forte Spagna parigi a 2 a 2 con il Marocco Neymar pedalato all'arovigno tutto per dubbio questo è Jesus ma muoviti se si leva dal fuoricicoco ma metti non si leva dal fuoricoco è ritardato Gabriel Jesus sta in porta insieme a Alisson è una gioia è una carta oh ma come ho fatto a non passagliela che infam questi sono infami non vogliono far segnare Gabriel Jesus ce l'hanno con lui passagliela ma piglia da Packer fai schifo e già ho passato ma tu sei un po' il tuo mamma che fai tenendo in del favelas io ma che se no io la passano io andai fai 2 io eccolo eccolo non lo ho passato alle mani non lo ho passato alle mani vai ma che cazzo fa non lo so vai quello che ha fatto è pazzesco tu no dimmi chi è che ti fa quella giocata Mitrovic eh Mitrovic ma a cagare se me Tom è finita finita voglio la pass mi sono pesciato segno comunque ragazzi finita la partita Brasile qualificata agli ottavi di finale contro il Messico nella quale io sono sicuro al 110% si sblocchi Gabriel Jesus esattamente ragazzi lasciate un bel like se vediamo un buon feedback un buon supporto da tutti voi portiamo anche la prossima partita agli ottavi contro il Messico contro la Svezia contro il Messico contro il Messico 300 mi piace a questo 300 è fatto bene ragazzi 300 mi piace a questo video ottavi di finali del Brasile in un hotel abbandonato l'ho detto con tutti i nostri amici ci organizziamo e ci andiamo quindi ragazzi mi raccomando lasciate un mi piace un commento iscrivetevi al canale di Enzo shale boom niente io direi che per questo video noi ci sentiamo ad un prossimo video ciao adiu spero